Il direttore Mastrorello con il presidente NOC hanno ribadito il comunicato stampa che hanno fatto alle testate giornalistiche locali e hanno detto espressamente che non sono loro che si occupano delle assunzioni ASIMO, ma bensì le agenzie. Le persone che ci sono state nominate, dei lavoratori che hanno da anni lavorato qua dentro, ha detto che sono comunque al servizio dell'azienda perché sono utili all'azienda, quindi lui deve garantire il servizio dell'azienda. Le nostre richieste non le accetta e tutto qua, quindi per il momento lui rimane che non ci sono da parte sua queste motivazioni assurde che noi abbiamo chiesto, che non sono totalmente vere, non hanno mai assunto loro personalmente, ma tramite agenzie di così precari. Ora noi staremo qui e vedremo se insomma le viene qualche lucidazione al Mastrorello, perché insomma abbiamo chiarito più di una situazione, ho detto la mia, ho detto la Ciccio Bicioccia ha parlato della sua, abbiamo parlato di altre persone che sono qui fuori e lui si occupa di ASIPO. Quindi a questo punto aspettiamo solo che si metta una mano sul cuore, visto che è Natale e licenzi immediatamente quelle persone che sfruttano solo l'azienda per anni.